In che modo possono essere strategici i lavori di rifunzionalizzazione del Sarno e dei comuni che interessano il bacino del Sarno? Noi facciamo un appello a tutti i comuni che fanno parte del bacino idrografico del fiume Sarno a non essere egoisti perché ognuno si oppone alla creazione delle vasche all'interno delle proprie città e di conseguenza solo il nostro comune poi debba ricevere i problemi reali che poi consistono nelle loro terre perché nei loro territori attualmente il comune di Scafato, il comune di Poggiamarino sono soggetti ad allagamenti continui noi vogliamo essere solidali con loro ma loro devono essere altrettanto con noi quindi questa contrapposizione a tutti i costi senza pensare al proprio vicino è un danno quindi noi vogliamo collaborare con tutti i comuni però vogliamo rispettare il nostro territorio chiediamo a tutte le istituzioni, regione e governo di sedersi al tavolo ed ascoltare le comunità noi non siamo contrari a nessuna opera ma siamo per la difesa del nostro territorio siamo solidari con gli altri ma gli altri devono essere solidari e ci debbano rispettare